La struttura del racconto sui social Ricordiamo che in questo capitolo ciò che più ci interessa è di rintracciare nei social network tutte quelle categorie e quelle regole alla base del racconto di finzione, con un'attenzione particolare per le storie scritte per l'audiovisivo. Facciamo questa premessa non perché dubitiamo della vostra memoria, attenzione e comprensione, ma perché, vi confessiamo, è utile e necessario per non perdere la strada che ci siamo prefissati di seguire, visto che la materia è più che ampia e il lavoro di riconversione e assemblamento dei linguaggi non è facile né a dirsi né a farsi. Vi sarete resi conto che abbiamo estromesso l'arco temporale del racconto da questo paragrafo, sebbene sia un elemento che a pieno titolo può essere considerato uno dei protagonisti principali nella struttura di una storia e di un racconto. Abbiamo reputato opportuno dedicargli un paragrafo a sé, in quanto la principale caratteristica della social writing, salvo un'eccezione che vedremo più avanti, qualunque sia il genere, la forma, il contenitore che decideremo di utilizzare, è il racconto. Dunque sarà la memoria di chi narra a dipanere la storia che il personaggio protagonista e i comprimari ci racconteranno, poiché quella storia fa già parte del loro vissuto e appartiene al loro bagaglio di ricordi. Va da sé che non vivremo le emozioni dirette dei personaggi attraverso il meraviglioso artificio classico dell'imidismazione, ma si instaurerà un rapporto vero e orizzontale fra noi e il protagonista, vero nel senso che la relazione che instaureremo esisterà nella realtà. Convenzionalmente rientrano all'interno della categoria struttura del racconto, ambientazione, durata, location, trama, conflitto, ecc. Dobbiamo immaginare la struttura del racconto come un plastico a misura ridotta, qui troveremo in miniatura le imitazioni del mondo reale, quindi ciò che dà all'uomo la percezione di essere, esistere, un luogo, un tempo, un'azione e di conseguenza una catena di reazioni, persone, storie. Fin qui tutto bene. Sui social cosa succede? Succede che non si parla più di imitazione, ma si parla di speculum del mondo, ovvero non si ricostruisce da capo l'impianto della realtà. I social sono lo specchio di un racconto che già esiste, che è a storico in quanto non ha fine se non un casuale inizio. In principio fu il caos.